I motivi della protesta sono per sbloccare i mille tirocini degli uffici giudiziari calabresi, una delibera della giunta regionale di quasi un anno fa, la questione adesso è bloccata per un'autorizzazione al Ministero della Giustizia, siamo qui per protestare perché adesso non si può perdere più nemmeno un istante di tempo e quindi stiamo chiedendo alla giunta regionale, al Presidente Oliverio in primis di fare una grande battaglia per sbloccare questa situazione intervenendo sul Ministero, cosa che noi come sindacato già stiamo facendo da diverso tempo. Le responsabilità della regione sono che questa partita è stata gestita male in passato durante la fase della gestione amministrativa, adesso però visto che le aiutatori sono uscite bisogna probabilmente fare qualche limatura, dobbiamo sbloccare la partita per far partire i tirocini, deve essere dato il fischio d'inizio di questa partita che riguarda mille persone, mille famiglie, ma soprattutto riguarda una terra che è la più povera d'Italia, che ha il più alto tasso di disoccupazione a livello europeo e che ha una grande emergenza negli uffici giudiziari calabresi e soprattutto nella pubblica amministrazione in generale. Quindi bisogna fare presto sbloccare questo nulla osta da parte del Ministero e questo lo deve fare soprattutto la regione Calabria e il Presidente, appunto come dicevo io, Oliverio, che deve dare segnali concreti che questa vicenda è una vicenda politica e va risolta politicamente tra la Giunta regionale e il Governo nazionale.